carissimi bentornati sul canale oggi ancora tanti pacchi da amazon guardate qui bella roba guarda questo è il primo andiamo con il primo così facciamo vedere subito quello che c'è dentro come on money oh di iphone 11 pro 256 gigabyte teri questo ride perché ridi poi invece qui sempre iphone 11 pro iphone 11 pro 256 green sigillato poi ringraziamo sempre amazon questi sono amazon questi altri qui abbiamo due tappetini pc gaming mouse ecco di qua questo è normale ok ok perfetto bellissimo guarda tutto pulito organizzato poi passiamo al secondo che eccolo qua abbiamo bellissimo anche questo riprendi qua per favore sempre con amazon amici fai vedere qua per favore guarda prende qua per favore così si vede bene si vede bene abbiamo abbiamo onor 20 play onor 20 pro finita la batteria di 30 eccolo qua perfetto galaxy altro galaxy altro galaxy altro galaxy allora abbiamo abbiamo il primo telefono onor 20 light sorpresa c'è il telefono c'è miseria questo ride qua non so perché cazzo ride vediamo se c'è il telefono all'interno eccolo ciao guarda il telefono amici onor 20 poi che abbiamo un orologio va beh sempre sempre il galaxy watch che abbiamo tantissimi eccoli qua uno facciamo così come al negozio altro guarda siamo supermercato supermercato guarda oggi facciamo una grandissima promozione amici solo per oggi siamo 23 novembre ottobre del 2019 ore 5 tra un po devo uscire con il max fuori in cinque minuti bellissima promozione oggi tutto questo che vedete qui solo 99 euro amici sconto del 99 per cento guarda pure ma secolo guarda dobbiamo uscire adesso no ragazzi dai non è nessun sconto è soltanto un unboxing non un review quindi non parliamo che fa col telefono che fanno un web questo è soltanto un unboxing quello abbiamo visto quello che si trova all'interno delle scatole rimettiamo tutto a posto a taglia 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 ciao ci vediamo al prossimo video ciao primo che guarda questo video e manda una mail questo tappetino per pc pc gaming è il suo lo mando subito 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 quindi dovete inviare una mail la mail lo trovate nella pagina informazioni sempre di youtube nel mio canale questa sarà la vostra ma il primo subito 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 quindi chi guarda chi è arrivato proprio alla fine mandate questa questa cazza di mail e ve lo mando subito pure l'indirizzo ciao